Allora i casi sono tre, o vieni da me, sali su, ti bevi una cosa, poi prendi la macchina e me la riporti domani, oppure ti chiami un taxi, oppure sali su, ti bevi una cosa, rimani a dormire e domani con tutta calma ti chiamo in taxi. Sergio me la devi promesso, cazzo? Alla fine è sempre tua sorella, in fondo quella è casa sua, pochi giorni e poi se ne torna. Come pochi giorni? Dove che vai? No, che c'è mia sorella con una sua amica. Anche la spagnola. Mi sa che non sei tanto contento che sono venuta. Che cazzo dici? Dai Mette, ma non credere mica Belinda, su, era strafatta, quella è pazza, ma poi ti pare che io ci provo con tua sorella, è lenta, è lenta. Ma che merda che sei l'oneghi? A quel punto mi sono alzata e ce l'avevo la tua. Quella è la porta magica, si chiama così perché era l'ingresso di una villa di un grande alchimista del 1600, era uno che voleva... Lo stai approvando? Gli sfiorati possono attraversare delle cose meravigliose o anche cose terribili, cose che magari gli altri nemmeno vedono. Qui siamo in un altro mondo. Diciamoci la verità, secondo me Belinda e Sofia... Ma a te le sei fumate la stessa roba e mi sono fumata io. Ma che vuoi? Ma perché mi hai baciato? Ma chi ti conosce? Ma guarda questo. Te ne vai via, eh? Chiamati un taxi per favore. Davvero vai via? Non ti piaccio più? Davvero vai via 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 Grazie.